Amici e amiche di RBA, martedì, un bel martedì di sole qui a Cavour per Tutto Melle 2023, una puntata speciale questa del giorno del patrono, qui c'è il mercato che in questo momento si sta affollando di colori, di persone, di sapori e di spezie, perché no, anche di buon vino, abbiamo parlato del Rami e prima con Nicoletta, delle delizie del Dau e continuiamo a parlare di vino con un produttore che ci ha raggiunto direttamente dalle vigne, mi piace questa immagine Nicolò, di colore fun, ciao! Ciao, buongiorno a tutti, ciao! Ma davvero tu arrivavi dalle vigne praticamente? O giù di lì? Sì, oggi ero in vigna, quindi sono partito a Pomaretto. Ecco, quindi parliamo di viticoltura eroica, prima abbiamo parlato con Nicoletta delle delizie del Dau, quindi di questo lavoro che in un luogo che non è, insomma, come dire, molto facile da lavorare, molto comodo, però lì si produce da secoli, credo, il vino, un vino eroico, in questo caso il Ramie. Tu hai iniziato questo lavoro, Nicolò, è un'azienda di famiglia o hai deciso a un certo punto della tua vita di intraprendere questa attività? Io ho iniziato a intraprendere questa attività proprio nel 2008, facevo ancora la scuola agraria, quasi un po' per curiosità. Il mio bisnonno aveva le vigne, poi col tempo sono state spiantate e mi piaceva riprendere quei terreni che erano stati abbandonati o comunque erano stati utilizzati per altre cose e riportarli a vigneto, proprio perché era una zona avvocata per la viticoltura e quindi ho detto, dai, proviamoci. Adesso io mi immagino, tu che hai il tuo lavoro, hai la tua famiglia, qui dietro le quinte c'è il tuo bellissimo bambino, hai la tua attività a un certo punto e hai detto, boh, mi butto anche nel vino. Ma chi te l'ha fatto fare? Perché? A volte me lo chiedo anch'io. Non è più facile perlo, no, no, è più bello farlo. Ma più che altro è stata una cosa di sopperire quelle che erano le mancanze in valle, no? Siamo passati in un periodo storico che c'erano solo più fabbriche e industria e quindi bisognava e bisogna ancora tutt'oggi, secondo me, riportare un po' l'agricoltura nelle nostre valli e conseguentemente turismo e tutto quello che ne deriva dall'agricoltura. E quindi abbiamo detto, perché no, provarci. Ecco, quindi riconvertire, ma in realtà ritornare, perché la presenza dell'agricoltura sappiamo quanto sia davvero radicata, ad esempio in Val Giammanazca e in Val Chisone. Ed è sempre più un volano per creare promozione turistica, talmente che mi sembra proprio oggi ci sono i tour di degustazione legati alle finali ATP di Torino. Quindi, insomma, c'è una possibilità, c'è un pubblico che non vede l'ora di scoprire, a mio parere, una storia come quella dei Ramie. Sì, difatti, tutto quello che ne consegue nelle valli dall'agricoltura e dall'agricoltura è un mondo, cioè è veramente un mondo. Anche noi saremo presenti alle finali ATP a Torino, quindi è una cosa per noi nuovissima, è una cosa fenomenale. Saremo presenti, vabbè, ci fa piacere quest'anno la fiera di Pomaretto, proprio il 18 novembre. E poi saremo 19-20 a Svitati e Saluzzo, quindi sono tutti dei palcoscenici che, grazie all'agricoltura, grazie a Pomaretto, grazie alle nostre valli, piano piano ci si stanno aprendo. Ecco, questo è importante, far conoscere questo vino, questa storia legata alla Ramie, quindi la viticoltura eroica. Hai portato uno dei tuoi vini, anche qua c'è un Dau? No, quello è un camoscio. Un camoscio, vedi, io sono espertissimo. Proprio perché sta a significare la difficoltà di lavorare quei terreni in montagna, no? Quindi il camoscio è un animale di montagna per eccellenza e abbiamo voluto portarcelo a cuore verso le bottiglie. Vuoi mettere la soddisfazione di creare un vino, vero? Alla fine, eh? Sì, noi devo anche ringraziare prima... Tra i conti della prima bottiglia, Dicolo. Beh, certo, certo. Che cos'erano Ramie? Sempre Ramie, noi stiamo lavorando adesso al 100% su Ramie, abbiamo dei progetti neanche troppo lontani, andremo a fare, abbiamo già fatto delle prove su dei bianchi e fare delle bollicine, metodo classico, e andremo a fare un impiantamento di Bienvert, questo è un vitigno autottono, così come Ramie è composto di vitigni autottoni, però bianco, ok? Quindi andremo a lavorare su mille metri di altitudine. Mille metri? Sì, sì, sì. Si fa il vino a mille metri, allora? Certo, certo. Ed è anche buono. L'esposizione è fenomenale, quindi abbiamo detto bisogna provarci. Puoi ripetere il nome? Io non mi avventuro nel piemontese. Ripeti il nome di quel vino? Il Bienvert. Bienvert, vabbè, il vino che sarebbe il tradotto? Bianco-verde. Bianco-verde, diciamo così, comunque è un vino bianco, diciamo così. Hai parlato del provare, del provare Maestatis? No, è un provare nel senso che in realtà collabori anche con altre realtà, perché non sei ovviamente l'unico produttore di Ramie della zona di Pomaretto, ma so che vi aiutate molto, vero? Adesso senza dire i nomi, però so che... Certo, no, beh poi anche su tutta la collettività a livello familiare, quindi partiamo da lì, dalla base, dai miei genitori, i miei suoceri, mia moglie, zii, tutti quelli che ci stanno dando attivamente una mano e delle volte ci fa quasi scendere la lacrimuccia, come si può dire, perché qualcuno che crede in un progetto che abbiamo portato avanti, che delle volte forse all'inizio non ci credevamo neanche noi di arrivare come siamo adesso. Certo. Ci sono progetti futuri, quello sicuramente, e in più ci sono progetti futuri con tutto quello che concerne il luogo, cioè nel senso, penso alle delizie del Dao, che prima c'è stata Nicoletta, penso alla Scuola Malva, noi vinifichiamo, grazie alla Scuola Malva, noi vinifichiamo lì alla Scuola Malva, Dario e Alessandra sono dei super per noi. Abbiamo iniziato con loro in effetti. E questo è un vino del 2022, questa bottiglia in particolare, questa bottiglia del vino piderolese, della Val Germanasca, delle Ramie. Insomma, è un vino ed è un lavoro che a me, in chiusura, Nicolò, che a me collega quel concetto fondamentale della pazienza e del lavoro giorno dopo giorno, che sembra un po' fuori dal tempo come dimensione, ma in realtà ti ha permesso anche di capire certe cose che prima magari non vedevi in maniera più pratica? Beh, quello indubbiamente sì. La pazienza sì, è vero, però poi arriviamo sempre nelle stagioni quando bisogna produrre l'uva, fare l'uva e di pazienza delle volte viene un po' mancare, perché c'è da correre, c'è da correre, così come adesso sembra un periodo fermo, invece stiamo correndo per preparare tutto quello che concerne la stagione 2024. Quindi siamo già guardando in avanti. L'ultima, tra virgolette, pazzia che abbiamo voluto provare stiamo facendo, appunto, fare una grappa delle nostre vinacce. Non è ancora pronta, arriverà indicativamente nel periodo natalizio, ma sono tutti progetti che bisogna ogni giorno avere, perché altrimenti poi ci si ferma e non va bene. Creatività, ma anche quel pizzico di follia bella e buona che ci vuole, secondo me, per credere in questi progetti. È stato un piacere conoscerti, grazie per essere passato da noi. So che adesso hai da fare, eh? Grazie per essere venuto qui. Grazie a voi, grazie mille. Grazie Nicolò, buon lavoro. Ci piace la follia così quando produce prodotti come questo vino e con tutte le altre belle realtà che vi abbiamo promosso questa mattina su RBI per Caffè Bleu. Ciao Nicolò! Ciao, ciao, ciao!